Possiamo già fare un primo bilancio, un bilancio di soddisfazione per Sport Days, per Iconi e per Fiera di Rimini, che ha investito molto su questo evento e che ha visto per tre giorni veramente i suoi padiglioni riempirsi di tantissimi giovani e di tanti protagonisti di tutto il mondo, sportivo, da tutti i punti di vista. Sì, è stata una bellissima edizione, siamo riusciti a realizzare il primo pezzo del progetto che abbiamo in testa per Sport Days, abbiamo unito tante attività sportive, di competizione, ma anche di attività nei confronti dell'avviamento dello sport con le famiglie a una parte espositiva, più commerciale, legata al turismo sportivo, all'impiantistica sportiva. Sport Days è la casa dello sport, è sempre di più un appuntamento dove per tre giorni tutto il mondo dello sport italiano si ritrova, ma vogliamo anche fare in modo che Sport Days sia anche il luogo dove le società sportive, le federazioni, le aziende che investono nello sport possono trovare nuove opportunità commerciali. Questo è avvenuto, tanti scambi, relazioni, molti convegni interessanti e anche alcuni appuntamenti di prestigio, la firma del protocollo con gli enti locali, la sinergia con la parte del governo e del ministero che dedica l'attenzione proprio al mondo dei giovani, insomma direi che la strada è tracciata e lì si può soltanto continuare a crescere. Sì, la strada è quella giusta, siamo di fatto alla prima vera edizione, l'anno scorso era una sorta di edizione zero, credo che nei prossimi due o tre anni si possa cominciare a vedere effettivamente quello che è il contenuto di un progetto che è molto complesso ma che per lo sport italiano può rappresentare molto nei prossimi anni. Per Rimini Fiera una conferma, un'eccellenza organizzativa ma anche la casa di grandi appuntamenti dopo Rimini Wellness e Rimini Dance, questo è un terzo filone che negli anni può diventare un punto di riferimento assoluto. Beh, Rimini per le sue strutture, per l'accoglienza, per gli alberghi, per il tempo libero si conferma una piattaforma ideale per poter organizzare questo tipo di eventi. Credo che ce ne possano essere anche degli altri in futuro, quindi Rimini ha le caratteristiche giuste per fare in modo che sia un punto di eccellenza per offrirsi a chi desidera proporre e organizzare eventi di questo tipo.